In una lettera scritta in data 15 giugno del 1914, Raffalina Cerase, Padre Pio, scrive quanto segue Che dolce cosa vivere sempre all'ombra del Signore, là nel sacro chiostro. Forse io me ne sono riso assai indegno di ripostarmi in quel sacro recinto, dove con tanta amorevolezza mi chiamò. Ed ecco perché il Signore, quasi per forza e per la mia ingratitudine, me ne vuole allontanare. Si è fatta la sua volontà, che tutto quello che ordina è giusto, vuol porre in prova estrema la fedeltà del suo servo. Il Signore, a mio discapito, vuole dare ascolto le preghiere di tutto questo divuto popolo, che assolutamente, a quanto dimostra, vuole per forza tenermi in mezzo ad esso, innalzando preghiere e quasi facendo violenza presso il cuore di Dio per conseguire questo loro alto desiderio. Mi commossero fino alle lacrime, ma io mi inorridisco e tremo a questo pensiero, mia cara, perché temo che il Signore non voglia pagarmi in questa vita qualche cosa fatta per suo amore. Pregate Gesù perché a ciò che è il premio me lo servi nell'altra vita.